50 interviste ai grandi protagonisti della musica italiana. Ognuno ha tanta storia è il titolo del nuovo libro di Fernando Frat Arcangeli. Da Franco Battiato a Renato Zero, passando per Gianna Nannini, Vasco Rossi e Pino Daniele. Curiosità e aneddoti, ma anche passioni e ricordi raccontati in un lungo, grande omaggio alla musica italiana e ai suoi principali protagonisti. Il libro si chiama Ognuno ha tanta storia, che è un titolo che mi ha suggerito un cantautore. Non mi ricordo adesso se era Vecchioni o Ruggeri, perché parlando di loro stessi, appunto ogni vita di artista ha un tracciato, ha un iter. Io in questo libro ho cercato, ho fatto praticamente 50 interviste nel corso di 30 anni. In 30 anni perché sono gli anni in cui io faccio questo mestiere, cioè giornalista, e ho raccolto le interviste che io reputo perlomeno più interessanti di alcuni personaggi. Faccio qualche nome, da Vasco Rossi a Zero, Patti Bravo, Vanoni, Nannini, Ranieri, insomma c'è un po' di tutto. E quindi mi è venuta l'idea, anche raccomandata un po' dai lettori, di farne un libro. Però il libro non è come le interviste già pubblicate nel mio mensile, che è raro più, ma l'ho ampliata nella integrità, perché di solito quando si fa un'intervista è un po' più corta per una rivista, mentre magari io ho registrato un'ora e mezza di intervista. In più ho raccontato all'inizio di ogni artista l'incontro, l'emotività, cioè le mie sensazioni. Quindi rileggendo una vecchia intervista mi è venuta questa idea, perché mi sono divertito a rileggerla. Dopo tanti anni ho detto, ma guarda un po' che interviste, allora magari tu le fai con l'incoscienza delle prime esperienze. Ho ritenuto molto giusto farne un libro, sta andando molto bene, sta piacendo a tante persone, perlomeno a quelli che l'hanno letto, e quindi ci tengo in modo particolare. Immagino tantissima passione per la cultura, per la musica e per questi personaggi straordinari. Indubbiamente sì, perché se non c'è la passione non fai queste cose. Io dirigo questa rivista, Raro Più, da 30 anni, ho iniziato con Raro, poi è passata come Raro Più, perché ho preso anche la metà, la proprietà, quindi sono coeditore, oltre che direttore responsabile, e quindi ancora lavoro con passione, mi diverto e questo è il gioco. Il gioco è se una cosa la senti, hai la passione e ti riesce bene.